Via libera della Camera dei Deputati alla riforma degli istituti tecnici superiori. Lo scopo è ampliarne e potenziarne la formazione in Piemonte. Ce ne sono sette. Fabio De Ponte è stato in quello di Biela una vera e propria eccellenza dove il 90% degli studenti trova lavoro subito dopo il ciclo di studi. Si progettano tessuti e modelli con il computer e poi si va in laboratorio a realizzarli concretamente con le macchine, due anni di studi alla fine dei quali più di 9 studenti su 10 trovano lavoro entro 12 mesi. Il giorno dell'esame di fine corso siamo già all'85-86%. I ragazzi si diplomano e hanno un posto di lavoro, cominciano il giorno dopo a lavorare. Siamo all'ITS di Biella, una scuola post-diploma che ogni anno viene completata da 100 allievi. Attiva dal 2011 è diventata una calamita di giovani talenti. Due terzi degli studenti infatti vengono da fuori Piemonte e poi scelgono di restare qui nel biellese a lavorare dove le strade tra cui scegliere sono tante. Nella parte di progettazione, quindi creare disegni per tessuti, perché mi piace un po' creare. Quindi ho detto ci provo, faccio questa scuola e devo dire che mi sta piacendo molto. Siccome ho un diploma in lingue vorrei lavorare nella parte commerciale, con comunicazione con l'estero e tutte quelle cose lì. Gli TS in Piemonte sono sette e coprono varie specializzazioni, sono completamente gratuiti e c'è una selezione per entrare. Al momento sono frequentati da 2400 allievi ma il numero è destinato ad aumentare. Il 12 luglio infatti è passata in via definitiva in Parlamento una riforma. Questa legge abilita le attività del PNRR per un miliardo e mezzo, che serve per sviluppare gli TS. Perché oggi in tutta Italia gli TS hanno circa 22 mila allievi e nell'arco di pochi anni si vorrebbero raddoppiare. Tra le novità anche la possibilità di passare dagli TS all'università e viceversa. Alcuni dei corsi infatti durano tre anni e saranno equiparati alla laurea triennale.